Sono tornati ad abbracciare la città dopo due anni di pandemia, i alpini nel quinto raduno ricordando il battaglione Alpini-L'Aquila che avrà il suo club con la sfilata di domenica. Ieri pomeriggio l'inaugurazione delle altre giorni in centro storico con diverse iniziative tutte molto partecipate. Convegni, area food, momenti di ricordo compreso quello dedicato a Valentino Di Franco, uno degli ultimi reduci di Russia scomparso lo scorso omaggio. Il clima è quello di festa in città, il clima tipico delle penne nere che hanno un legame indissolubile con l'Aquila consolidatosi con il sisma del 2009. L'area interessata dalle iniziative è quella di via le medaglie d'oro dell'auditorium del parco dove ci sono stand informativi, una mostra interattiva per vedere i cambiamenti negli uniformi in 150 anni, anche perché quest'anno ricorrono proprio i 150 anni dalla nascita delle truppe alpine. Domani mattina il centro storico si riempirà di nuovo con le penne nere nella loro tradizionale sfilata, un momento di festa ma anche di ricordo che stringe la città e che fa un po' da coda alla ricca estate aquilana.